17 maggio sono le nove e mezza recupero terrestre attaccata una pianta di lampone per terra non ci credo vediamo che riusciamo a fare non riuscire a farla salire sul favo adesso se stava in mezzo a una fogliolina non si voleva muovere l'ho presa due volte e volava adesso sta la parte sotto non so se già è entrata o entrerà oppure non sta più sul favo non la vedo il favo col calore si sta spogliando poi è entrata o è volata di nuovo porca miseria non posso tagliare la pianta di lamponi ecco la regina sta lì dentro ma non si convince a entrare la vedete niente prova a spingerla piano piano no no non te ne andai l'altra volta vai di là entra entra vai dentro eccola dai no niente no non te ne andare no mamma mia è cocciuta niente è regolata ma chissà dove si rimette è ritornata non so se la vedete stavolta è tornata di nuovo qui quindi guardate sta qua eccola si vede il mio dito no si adesso provano a spingerla magari ci vada sola dentro se no se ne va un'altra volta guardate che bella cicciottosa questa quindi è già fecondata ovviamente è la prima sciamatura non dovremmo avere problemi se la convincono entrare d'altronde comandano le femmine non la peregina quindi dovrebbe prima o poi entrare vediamo un po' eh lascio un po' il video se lo becchiamo quando entra spero si veda perchè io con il riflesso non vedo proprio niente si fa un po' trasportare quando capitano queste regine così cocciute guarda è un macello che vogliono tre ore che entrano escono si riposano sul ramo e questa continua a starsene lì non vuole entrare però come vedete le femmine chiamano quindi prima o poi ubbidirà questa regina vedete proprio non ci vuole andare da quella parte sta andando un'altra volta secondo me proprio ha deciso che qua non gli piace ma vedete sta salendo sul bordo da qui eh eccola vediamo un po' ma mi sembra che abbia tanta considerazione insomma portatela dentro ma vuoi andare dentro guarda te come stanno dicendo tutte ma lei imperterrida ecco se ne va lassù niente per accendere il telefono la sono persa speriamo non sia volata di nuovo grazie 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 grazie